Noi abbiamo messo l'errofi bianco, però abbiamo ottenuto un fumetto, un dialogo che apre il capitolo di San Ferdinando, una cosa che diciamo sempre è una presentazione, che fa parte della dinamica più reale. Il nome del giornaletto, come lo avete chiamato, volevo andare nelle scuole. Noi da anni sentiamo i muri, i fumetti, sono roba per bambini. Grazie. 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 Grazie a tutti.